Omessa attività di controllo e sorveglianza della complessa e pericolosa situazione venutasi a creare nei cieli di Ustica. Con questa accusa il Ministero della Difesa e quello delle infrastrutture dovranno risarcire la compagnia aerea Itavia fallita dopo l'abbattimento del suo DC-9 caduto in mare il 27 giugno del 1980 con 81 vittime per l'esplosione esterna dovuta a un missile lanciato da un altro aereo. Lo ha deciso la Corte di Cassazione confermando la responsabilità dei due ministeri. Tra qualche mese stabilirà se 265 milioni di euro bastano. È stato dichiarato inammissibile dalle sezioni unite civili il ricorso con il quale Difesa e Infrastrutture hanno contestato di essere responsabili della caduta del volo partito 38 anni fa da Bologna e diretto a Palermo per fatto illecito costituito dall'omesso controllo dei cieli così come stabilito dalla Corte di Appello di Roma con due distinti verdetti del 2012 e del 2013. Finalmente anche la Corte di Cassazione ribadisce quello che era già stato rilevato in altre sedi ha sottolineato con amarezza Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime della Strage di Ustica e sorella di una delle vittime ascoltata dalla DN Kronos. Resta il dramma di una verità negata il giorno dopo la strage e per lunghi anni ancora. Era compito dei due ministeri garantire la sicurezza del volo. A loro, ha detto in pratica la Cassazione, spettava l'onere di capire cosa stesse accadendo nei nostri cieli. Bastava avvisare il pilota e non è stato fatto. Il dramma è che tutto ciò è stato negato dal giorno dopo la strage, in tanti anni tante menzogne e questo è sempre più palese. La strage di Ustica avvenne nei cieli sopra il braccio di mare compreso tra le isole italiane di Ponza e Ustica. Nell'incidente morirono tutti gli 81 occupanti dell'aeromobile, tra passeggeri ed equipaggio. Tra questi c'erano anche 13 bambini, ma furono trovate e recuperate soltanto 38 salme.